Le guide improvvisate e quindi abusive. I tempi del Green Pass, diversi da quelli degli altri paesi europei e ovviamente il crollo dei viaggi all'estero a causa della pandemia. Visite gratuite per i turisti presenti in campagna, ma anche riflettori puntati sulle problematiche che affliggono il settore per la giornata internazionale delle guide turistiche, che ricorre oggi 21 febbraio. In occasione dell'evento, tour gratuiti nel weekend attraverso le bellezze monumentali del territorio, organizzate dall'Associazione Guide Turistiche della Campagna, presieduta da Susi Martire. Togliere il Green Pass a noi potrebbe essere qualcosa di molto importante. Le spiego, le faccio un esempio abbastanza stupido. Ultimamente, dal primo di febbraio, è stata introdotta questa nuova norma che il Green Pass vale sei mesi da noi in Italia, mentre negli altri paesi europei vale nove mesi. Questo fa sì che molti ci stiano chiedendo, parlo dell'estero, spagnoli, francesi, come possono fare per visitare i nostri musei, visto che il Green Pass loro è ancora valido, per chi per esempio ha fatto la seconda dose ad agosto, mentre qui in Italia non risulta valido. La nuova normativa prevede che debbano accostare a questo loro Green Pass un tampone per entrare nei musei, nei ristoranti, negli alberghi. Capisce che è un costo in più e quindi molti poi alla fine ci rinunciano. Al centro della giornata i temi della consapevolezza del territorio, della legalità e del rispetto del lavoro, con l'intento di sollecitare i cittadini, consumatori, a diffidare di chi conduce visite guidate abusivamente. Le guide impegnate nelle visite per la giornata internazionale sono orgogliosamente locali e raccoglieranno fondi da devolvere alla cooperativa Il Camper, che contrasta il disagio sociale. A parlarcene è Roberta Palazzo. Siamo lusingati di questa collaborazione che vede cultura e solidarietà insieme e grazie a quanto i turisti offriranno per il progetto, noi potremmo andare a rinforzare tutte quelle azioni di promozione sociosanitaria che da anni portiamo avanti per le persone in emarginazione sociale.